Ciao a tutti, il potere seduttivo del sorriso. In questo video voglio parlarti un attimino del potere seduttivo del sorriso e come distinguere tra sorriso vero e sorriso falso. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco e ti ricordo che sul canale potrai scegliere tra gli abbonamenti base per dare un sostenere al canale per partecipare alle live e l'abbonamento invece seminario online per partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. Adesso veniamo al potere seduttivo del sorriso. Intanto ci sono persone che simulano i sorrisi, spesso simulare un sorriso è il modo più diffuso di comunicare. Questo non significa, diciamo, che simula un sorriso ovviamente che sia d'accordo con te per qualche motivo. Quindi devi imparare a distinguere tra un sorriso vero e un sorriso simulato. E la differenza, ti do subito un'indicazione, nasce da come si sviluppa il sorriso. Questo è un sorriso simulato, questo è un sorriso simulato. Questo è un sorriso vero. Perché vedi che interagiscono anche gli occhi, i muscoli degli occhi. I muscoli degli occhi sono discriminati tra il sorriso vero e il sorriso simulato. E' importante cogliere, diciamo, se questa persona sta sorridendo per compiacere, per captarsi o benevolenza o no. Se vuoi, ripeto, capire se un sorriso è finto o un sorriso è falso, osserva gli occhi. Chi sorride non avrà ruga agli angoli degli occhi e anche le sopracciglia resteranno ferme. Invece il sorriso vero agisce sui muscoli degli occhi, si formano delle rughette qua. Gli occhi restano leggermente chiusi e le sopracciglia saranno un pelino più corrugate. La bocca potrebbe non avere variazioni, ma gli occhi comunque sì. Ridere, e ridere, diciamo, emettendo dei sorrisi veri, quindi non simularli, ma proprio emettere dei sorrisi veri genererà uno stato di positività. Verremo percepiti molto più belli. Sono stati fatti dei sondaggi, stesse persone fatte vedere in momenti diversi, ovviamente con tutti i crismi di come vengono fatti i sondaggi, la stessa persona quando ride con un riso vero viene giudicata molto più attraente di quando ride con un sorriso falso o quando non ride affatto. Quindi il sorridere ti fa giudicare, ti fa percepire, diciamo così, inconsapevolmente dalle altre persone, se è che tu sia uomo, se è che tu sia donna, più attraente, più, potremmo definire, più sexy, più appetibile. E questo è un'altra cosa molto importante perché ti fa capire che sorridere è fondamentale. Tra l'altro sorridere fa anche sembrare più giovani, quindi, ed è possibile che proprio, diciamo, portandoti buon umore in realtà ti faccia invecchiare meglio, diciamo sicuramente, nonostante magari le rughette sotto gli occhi, però invecchi è sicuramente meglio. Talvolta si possiamo confondere come sorriso qualche movimento legato invece al disagio, cioè la bocca troppo rilassata, troppo aperta, gli occhi totalmente un po' in questo modo qua, non rappresenta un sorriso ma rappresenta un segnale di ansia, un segnale di paura. Quindi talvolta il sorriso potrebbe essere quando un riso forzato è come accettare, diciamo, e scaricare l'attenzione di una situazione che in realtà ci dà disagio. Quindi anche questo, anche in questo caso è molto importante capire che tipo di sorriso è. Comunque, nella seduzione il sorriso può essere il più potente degli strumenti per sedurre, per coinvolgere, perché ti fa percepire come una persona molto più attraente e molto più seducente. Bisogna imparare a usare al meglio, ti puoi esercitare anche davanti allo specchio e nei rapporti interpersonali cerca di cogliere l'aspetto comico della cosa, l'aspetto divertente, l'aspetto piacevole e impara a ridere, ma non attraverso dei sorrisi artificiali che alla fine non danno nessun beneficio, ma proprio a sorridere, a trovare l'ironia nelle interazioni che hai e provare a sorridere di gusto. Questo ti renderà una persona più affascinante, più attraente e ti renderai conto del grande, enorme potere nella seduzione che ha il sorriso. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sui canali, con l'abbonamento base sul canale potrai, diciamo, partecipare alle live e dare un sostegno al canale, con l'abbonamento seminario online potrai partecipare ai miei seminari online che faccio messi in mente. Ciao a tutti!